Ma che t'ha fatto Gipri? Che t'ha fatto Gipri? La macchina è scassata! Mi sa dire il giocatore che ieri ha giocato contro il Napoli Tutte le due squadre hanno giocato un calcio affusinante Se non c'era la Messi, il Napoli non mi giova mai E' il Bari che ha dimostrato senza dubbio il passato Mi sembra riduttivo questa sua analisi è riduttiva Il Napoli se non c'era la Messi non l'avrebbe vinto mai Mi sembra molto riduttiva la sua analisi Non la condivido però la rispetto ovviamente Le chiedo di rispettare le mie come io rispetto le mie Detto questo, mi scusi Fallo finire il generale Fallo finire il generale Quindi, solo Grazie.